Il Presidente del Consiglio Paolo Gentigoni è tornato al lavoro dopo le dimissioni questa mattina dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da martedì sera per l'impianto di uno stent. Primo impegno il Consiglio dei Ministri, in agenda i decreti attuativi della legge sulla scuola e sulle unioni civili, ma sul tavolo del Governo lo aspettano altri dossier importanti, che banche il Jobs Act con la modifica dei voucher, l'immigrazione e la legge elettorale. A meno di una settimana dal suo insediamento Donald Trump decide di rafforzare l'asse con Putin. Il Presidente eletto è infatti pronto ad abrogare le sanzioni imposte a Mosca, comprese quelle varate a dicembre dall'amministrazione Obama in risposta ai saberattacchi russi. In cambio Trump chiede la collaborazione del Cremlino nella lotta al terrorismo. La svolta del Governo sulle vaccinazioni saranno gratis per tutti e senza pagamento del ticket, perché considerate una prevenzione e non una cura. Nel nuovo piano nazionale entreranno anche il vaccino contro il meningococco B e verrà esteso ai ragazzi quello per il papillomavirus. Individuati e affermati a Napoli gli autori della sparatoria al mercato di Forcella, dove il 4 gennaio rimase ferita anche una bimba di 10 anni. Alla base del raid ci sarebbe stato il mancato pagamento del pizzo al clan Mazzarella. Agli arresti domiciliari due ambulanti italiani che avrebbero fatto da basisti. Ne parliamo tra poco con TG Cronache. E poi c'è il campionato di calcio che riparte con il girone di ritorno e sempre caccia alla Juventus. Oggi in campo l'Inter per continuare la striscia positiva in attesa della partita Clutra, Fiorentina e Bianconeri di domani sera. L'attenzione sarà puntata anche sul Gabon. Oggi al via la 31esima edizione della Coppa d'Africa. In campo ci sono 12 stranieri d'Italia. La stella, il romanista, Salah con l'Egitto favorito. Dunque una buona giornata e un buon sabato dal telegiornale della 7. Un sabato felice e lieto soprattutto per il Presidente del Consiglio Gentiloni che è tornato al lavoro la sua una settimana più complicata delle altre. Un previsto quel ricovero al Gemelli, quel piccolo intervento, il decorso sereno e il ritorno al lavoro con il Consiglio dei Ministri di quest'oggi. Che cosa ha osservato dal letto del Gemelli il Premier Gentiloni? Tanti fatti che hanno riguardato pezzi importanti del patrimonio italiano in difficoltà. Le banche a partire da MPS all'Italia ma anche il caso Fiat Chrysler. E poi su piano più strettamente politico l'attenzione per le sentenze della consulta. Alle spalle ha messo quella sul referendum della CGL che non ha fatto passare il referendum, dicevamo, relativo all'articolo 18 e già l'attenzione invece si sposta alla prossima sentenza, quella che riguarda la legge elettorale. Dopo tre giorni di ricovero e un'operazione di angioplastica il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha lasciato il Policlinico Gemelli questa mattina per tornare subito al lavoro. Una riunione del Consiglio dei Ministri convocata a mezzogiorno e iniziata intorno alle 12.40. In agenda i decreti attuativi della riforma della scuola e delle unioni civili e la proroga di alcuni incarichi, fra i quali quello del Comandante dei Carabinieri Tullio del Sette. Ma sul tavolo del Governo lo aspettano anche altri dossier importanti, le banche, il Jobs Act con la modifica dei voucher, l'immigrazione e la legge elettorale. Temi su cui ha fatto il punto ieri sera con il segretario del PD Matteo Renzi che è andato a trovarlo in ospedale. L'intesa è piena, secondo fonti PD, così come la continuità del suo esecutivo con il Governo Renzi. Anche sull'argomento più politico e più delicato, la legge elettorale e dal quale dipende il futuro della legislatura. Nel dibattito però si entrerà nel vivo solo fra dieci giorni dopo che la consulta si sarà pronunciata sull'Italicum. Per ora anche Matteo Renzi preferisce non parlarne e concentrarsi invece sul rilancio del partito e sulla nuova segreteria che dovrebbe vedere la luce già a metà della prossima settimana. Accanto ai due vice segretari Guerini e Seracchiani e responsabile economico Taddei che conservano le poltrone, sarebbero confermati gli arrivi dell'economista Tommaso Nannicini al programma, del ministro dell'agricoltura Maurizio Martina all'organizzazione e dello scrittore Gianrico Carofiglio alla comunicazione. Il resto della squadra sarebbe invece composto da parlamentari e sindaci perché è la strategia di Renzi. Per dare una nuova visione del paese bisogna partire dalle realtà locali. Per questo già nelle prossime settimane si svolgeranno iniziative nei circoli e l'assemblea nazionale degli amministratori del PD, appuntamenti sui quali Renzi punta molto e che serviranno anche per fare il punto sul tesseramento che sarebbe in calo. Mentre la minoranza del partito continua a fare la guerra, le accuse riguardano la gestione del partito e la scarsa trasparenza, il segretario di scelta civica Enrico Zanetti lancia una sfida all'ex premier chiedendogli di trasformare il popolo del sì in una base elettorale che superi il partito democratico. Il PD contraziona a sinistra in un appeal, spiega Zanetti, che dà per inevitabile una scissione interna al partito fra maggioranza e minoranza. Ed è stata anche la settimana da seguire più delle altre oltreoceano negli Stati Uniti perché ci siamo lasciati alle spalle il discorso di Barack Obama, l'ultimo dopo i suoi otto anni di mandato, la commozione, il bilancio da lasciare nelle mani di Donald Trump, una conferenza stampa, quella del neoeletto presidente degli Stati Uniti che ha fatto molto rumore. In primo piano sui media americani c'è sempre questo rapporto con la Russia che potrebbe quasi causare anche un capovolgimento della clessidra, per così dire, perché nonostante le accuse, le inchieste, le indagini anche annunciate dal Senato, l'intenzione di Donald Trump è di stringere sempre più i rapporti con Mosca. Nulla ferma l'avvicinamento tra Donald Trump e Vladimir Putin, non i servizi segreti americani con i loro dossier, non l'annunciata inchiesta del Senato sulle ingerenze russe nel corso delle elezioni. Al Wall Street Journal il prossimo presidente conferma che è pronto a cancellare le sanzioni contro Mosca, senza meglio specificare se si tratti solo delle ultime volute da Obama per la vicenda dell'accheraggio delle mail del Partito Democratico o anche quelle meno recenti e più pesanti imposte dopo l'aggressione all'Ucraina. Le terremo per un po', spiega Trump, ma se la collaborazione sarà fruttuosa, diverranno inutili e la collaborazione già appare fruttuosa, visto che Michael Flynn, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente eletto, ha ricevuto un invito proprio dalla Russia per far sedere gli Stati Uniti al tavolo dei prossimi negoziati sulla Siria che si apriranno ad Astana e in Kazakhstan. Dunque, attraverso la volontà di Putin, l'America rientra dove era stata esclusa, tra le potenze che avranno modo di far sentire la propria voce sul futuro della Siria, tavolo dal quale al momento manca l'Europa e l'ONU. Una spaccatura non solo per il cambio di posizione americana sul dittatore Bashar Assad, che incrina anche la solidità del blocco euroamericano, che si oppone all'espansionismo russo dopo l'annessione della Crimea. Ad essere sospetti inoltre sono i tempi dell'invito. Sergei Kislyak, l'ex ambasciatore a Washington, cacciato da Obama, l'avrebbe esteso il 29 dicembre, cioè proprio il giorno in cui gli Stati Uniti hanno annunciato le sanzioni. Dalle colonne del Wall Street Journal, Trump conferma anche l'altro cambio storico della politica estera americana e il riconoscimento di una sola Cina. Pechino ieri, attraverso la stampa di regime, aveva ricordato al prossimo presidente di essere una potenza nucleare e come tale di considerare ogni intrusione nella sua politica estera, in particolare su Taiwan e sul mar cinese meridionale, come un atto di guerra. La risposta oggi non si è fatta attendere. Non mi sento legato alla politica una sola Cina, ha detto Trump, finché non vedrò progressi da parte di Pechino nel commercio e nella manipolazione della valuta. Per il nuovo presidente dunque non esistono principi intoccabili. Tutto si può rinegoziare. E allora andiamo avanti con le notizie della Palestina che oggi ha una sede diplomatica in Vaticano. Dalla giornata di oggi storica a inaugurarla stamane il presidente Abu Mazen, che in precedenza era stato ricevuto a colloquio da Papa Francesco, un incontro che è durato una ventina di minuti, al termine del quale, dopo il consueto scambio di doni, il pontificio e il leader palestinese si sono abbracciati. La decisione di riconoscere la Palestina da parte dello Stato pontificio risale al 2015. Papa Francesco è tornato oggi sulla necessità di una ripresa del dialogo tra israeliani e palestinesi, così come aveva fatto anche la scorsa settimana, rivolgendosi al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Spero che altri stati seguano l'esempio del Vaticano, ha commentato Abu Mazen, entrando nella nuova ambasciata, criticando nel contempo la decisione annunciata da Donald Trump di voler trasferire la sede diplomatica statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme. E dunque, rimaniamo agli Stati Uniti. Il cambio di corso, dicevamo, Obama, Donald Trump, una tempistica che comunque non è passata inosservata. Quando è arrivata la notizia, lo sapete, dell'inchiesta sulle emissioni che ha toccato Fiat Chrysler, una tempistica sottolineata anche dallo stesso amministratore delegato Marchionne, che ha tenuto a sottolineare la distanza di questo caso rispetto agli altri di Selgate, quello passato a suon di miliardi e di faticosa risalita in casa Volkswagen, quello che sta toccando in queste ore anche la Renault in Francia, si parla, pensate, di un rischio di una multa di 4 miliardi e mezzo, e poi contatti da parte di Marchionne con l'amministrazione e le autorità americane per cercare di capire in che termini rientrare la perdita e la ferita sui mercati c'è stata, anche se i mercati non hanno reagito in modo omogeneo. Oltre il 2% di perdite dopo essersi risollevato a piazza affari sulla scia della difesa di Marchionne guadagnando oltre 4 punti e mezzo percentuali. A Wall Street ieri il titolo FCA ha proseguito sulla china negativa intrapresa giovedì in seguito all'apertura dell'inchiesta sulle emissioni da parte dell'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente. La chiave per comprendere la nuova giornata no è la notizia anticipata da Bloomberg arrivata a mercati europei già chiusi e poco dopo l'apertura della borsa di New York, che anche il Dipartimento di Giustizia sta indagando sui software installati da FCA su 104.000 vetture dotate di motori diesel 3.000, Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram senza comunicarlo alle autorità. Notizia in realtà prevedibile e prevista dallo stesso Marchionne perché i PA e Dipartimento di Giustizia proseguono quasi sempre di pari passo e è accaduto anche con Volkswagen, ma certo non positiva. Abbiamo un dialogo con le autorità che continua da alcuni mesi e che proseguirà con la nostra completa collaborazione. Questa la reazione del gruppo italo-americano, i cui rappresentanti ieri hanno nuovamente incontrato quelli dell'Agenzia per la Protezione Ambientale e lunedì voleranno a Los Angeles per presentare le loro proposte di adeguamento dei motori alle richieste della Commissione per la Difesa Ambientale della California, che è parte dell'iniziativa dell'IPA. La linea difensiva la si conosce, c'è stato solo un difetto di comunicazione, i software installati non sono manipolativi e non c'era, come invece è accaduto per Volkswagen, l'intento di frodare le autorità in occasione dei test sulle emissioni. E poi c'è il cote politico con Marchionne che ha puntato il dito contro la tempistica della vicenda e l'amministrazione ormai uscente che ha sottolineato l'assoluta autonomia dell'operato dell'IPA agli sgoccioli del mandato. Tra poco, a capo dell'Agenzia, ci sarà Scott Pruitt, uno di quelli che sostiene che i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale siano una bufala. Difficile pensare dunque che l'indagine possa proseguire con lo stesso vigore attuale. Più probabile invece che da andare fino in fondo saranno i giudici francesi che hanno aperto un'indagine sulle emissioni dei motori diesel Renault. La notizia è di ieri e anche in questo caso lo spettro di nuovo Dieselgate si è abbattuto sui mercati facendo precipitare il titolo della casa transalpina. Dunque, il quadro in cui ci si muove, dicevamo, tra le preoccupazioni del Premier Gentiloni dell'intero paese c'è anche quel giudizio che arriva puntualmente sulla nostra economia, sul nostro debito sovrano. Si parla apertamente oggi di una retrocessione in serie B definitiva per il momento dell'Italia perché mancava l'ultima agenzia di rating, la canadese, che è la più piccola a livello internazionale che ci lasciava ancora un A. Siamo finiti in serie B. Quali sono le ragioni? Molte le conosciamo. Dicevamo, il processo, l'instabilità politica, l'incapacità di continuare dopo un referendum anche la politica delle riforme e poi il nostro sistema bancario, cronicamente debole. La multa patteggiata con le autorità federali americane dall'agenzia di rating Moody's è di quelle salate, 864 milioni di dollari. Ma quello che è più importante, che rimarrà negli annali della finanza, è l'ammissione di colpa. Di fatto i vertici di una delle quattro sorelle del rating mondiale hanno dovuto ammettere di non aver seguito i consueti standard di giudizio, valutando il merito, la reale affidabilità di una serie di mutui ipotecari particolarmente rischiosi, nel delicato periodo che ha portato alla crisi finanziaria del 2008-2009. Si tratta dei famigerati subprime, quelli che hanno messo in crisi la classe media statunitense, la miccia che ha innescato la crisi finanziaria americana, della quale in Europa stiamo ancora pagando le conseguenze. La multa, dicevamo, è salata, ma altrettanto salata erano le commissioni incassate dall'agenzia a fronte di una valutazione del rischio, oggi possiamo dirlo, sottaciuta. Al Dipartimento di Giustizia americano andranno 437 milioni di dollari, mentre altri 426 milioni saranno distribuiti tra i restanti 21 stati e al distretto di Columbia con cui è stato trovato l'accordo. Ricordiamo che anche in Italia sono in corso alcuni procedimenti giudiziari contro le agenzie di rating. La procura di Trani appena due giorni fa ha chiesto nove mesi di reclusione e 16 mila euro di multa al termine della requisitoria al processo per manipolazione del mercato a carico dell'analista di Fitch David Rilley, accusato di aver fornito in due occasioni, il 10 e il 17 gennaio 2012, anticipazioni sull'imminente doppio declassamento del rating dell'Italia deciso da Fitch ufficialmente solo il 27 gennaio dello stesso anno. In questo modo, secondo il PM di Trani Ruggero, Fitch ha turbato in negativo l'andamento del mercato finanziario italiano. Molte richieste di condanna che forse scalfiscono un po' l'immagine delle agenzie di rating, la cui centralità però rimane inalterata nel sistema finanziario. Ieri, ad esempio, DBRS, l'ultima agenzia che attribuiva al debito italiano il giudizio A, l'ha declassato alla tripla B a causa dell'incertezza politica del nostro paese. Tutto ciò aumenterà il costo per le banche che andranno a chiedere prestiti alla BCE, portando come garanzia titoli di Stato italiani. Un paese che su altri fronti prova a cambiare o fa in modo molto attuale nel capitolo sanitario dell'umanità riguarda i vaccini, il nuovo livello minimo di assistenza, ma non solo perché si tocca un capitolo forse troppo trascurato, quello delle malattie rare. E poi che cosa viene distribuito gratuitamente ai cittadini? Più vaccini, i vaccini che devono essere distribuiti. Ce ne sono di nuovi e ce ne sono di più a disposizione, senza spendere un euro di varie fasce di cittadini nel nostro paese. Cerchiamo di capire i dettagli. Limitare l'analfabetismo di ritorno a quello che mette in discussione il valore scientifico dei vaccini. Lo dice senza giri di parole il ministro della Salute Lorenzina nel giorno dell'introduzione dopo 15 anni di attesa. Qual è il significato principale dei nuovi LEA? I livelli essenziali di assistenza che verranno esaminati per avere il via libera definitivo della conferenza delle regioni il prossimo 19 gennaio. La novità più rilevante quindi è quella sul tema vaccini gratis per tutti e senza pagamento del ticket perché considerati una prevenzione collettiva e non più una cura. Oltre a quelli già previsti negli ultimi anni, i difterite, tetano per tosse, epatite B, polio, emofilius, influenza tipo B, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco C. Per i nonati sono stati aggiunti anche i vaccini contro meningococco B, rotavirus e varicella, un modo per evitare che diminiscono ancora e finiscono sotto le soglie di sicurezza, la copertura di tutti i vaccini obbligatori e raccomandati. Per quanto riguarda gli adolescenti invece è stato esteso anche ai maschi il vaccino contro il papillomavirus, l'HPV, mentre per entrambi i sessi sono stati aggiunti meningococco tetravalente e richiamo antipolio con IPV. Per finire per tutti gli adulti a partire dai 65 anni, oltre al vaccino influenzare stagionale, sarà possibile richiedere anche quello contro lo pneumococco, l'herpes zoster. Estremamente importante è anche la nuova nomenclatura della specialistica ambulatoriale che come punto principale ha quello di poter erogare tutte le procedure per la procreazione medicalmente assistita a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non solo come è successo fino ad ora il regime di ricovero. La svolta nella sanità che da oggi prevede aggiornamenti annuali e non più a data da destinarsi grazie alle riunioni ogni 12 mesi di un comitato tecnico scientifico che aggiornerà le e nomenclature costerà, dice il ministro Lorenzino, un miliardo di euro. Non è però una semplice e onerosa spesa economica, afferma il titolare del di Castero della Salute rispondendo alla CGL che ha parlato del rischio di una riforma velleitaria senza i fondi necessari per portarli a termine, ma un investimento sulla nostra salute. Adesso facciamo vedere delle immagini che stanno arrivando da Firenze, una mattinata ancora di grande tensione in prefettura. Era previsto l'incontro con il prefetto e i sindaci dei comuni vicino a Firenze per trovare una soluzione dopo il rogo del capannone di Sesto Fiorentino nel quale aveva perso la vita, lo ricorderete, un somalo di 44 anni a protestare un'ottantina di migranti, quasi tutti rifugiati politici di origine somala che vivevano in questo capannone insieme poi ad attivisti del Movimento per la Casa che avevano chiesto di partecipare al tavolo del vertice. Gli è stato risposto di no nel tentativo di forzare il blocco della polizia che presidiava l'ingresso della prefettura, le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti, vogliamo una vita dignitosa, non vogliamo morire così, è scritto sullo striscione che i migranti hanno portato davanti alla prefettura. Negli scontri, vedete le prime immagini che siamo riusciti a proporvi, sono rimasti feriti due migranti, gli ex occupanti del capannone di Sesto Fiorentino, lo ricordiamo, sono temporaneamente ospitate nel palazzetto dello sport dal quale però naturalmente dovranno spostarsi. E adesso andiamo al destino della fiera di Milano, è un destino complicato che avevamo già intuito dall'estate, un'estate fatta di inchieste e di commissariamenti di rami d'azienda, adesso siamo arrivati allo strappo più doloroso ma necessario per mostrare discontinuità rispetto al passato. Un lungo CDA ha durato più di quattro ore, poi la decisione di missioni irrevocabili del Presidente e dei consiglieri d'amministrazione che hanno fatto decadere il Consiglio e quindi l'amministratore delegato Corrado Peraboni. È l'unica mossa che permette a Milano Fiera e S.P.A., la fondazione che gestisce alcuni tra gli eventi più importanti della città, dalla settimana della moda al Salone del Mobile e del Libro, società quotata in borsa e appena ricapitalizzata, di evitare il commissariamento chiesto dalla Procura di Milano, su cui il Tribunale potrebbe decidere già martedì prossimo, dopo aver ascoltato la posizione della società e dei suoi azionisti. Ieri sera è arrivata la nota in cui si regge che il Consiglio ha ritenuto anche che l'amministratore delegato Peraboni non deve procedere a rimettere le deleghe. A dimettersi cinque consiglieri, tra cui l'europarlamentare di Forza Italia Riccia Ronsulli e il Presidente Roberto Rettani, figura nominata dal Governatore della Regione, uno tra i più importanti motori del sistema Milano, ma l'inchiesta dei pubblici ministeri Ilda Bocassini e Paolo Storari aveva evidenziato come una cosca siciliana si sarebbe infiltrata in un consorzio. Al centro c'è il ramo d'azienda più importante di Fiera Milano, che fa capo alla partecipata Nolostend, 60% degli utili, finita sotto indagine estate scorsa per infiltrazioni non prevenute di stampo mafioso nei subappalti per alcuni allestimenti di padiglioni ospiti di Expo, come quello della Francia. A luglio scorso furono emesse 11 custodie cautelari, con l'accusa di mazzetta del 10% sugli appalti e nei mesi successivi cinque funzionari dell'Anolostend avevano ricevuto un abiso di garanzia. La società in pratica è già commistariata da settembre, con l'amministratore nominato dal Tribunale e incaricato di vagliare tutti i contratti di spesa superiori ai 10.000 euro. Nelle scorse settimane i vertici di Fiera Milano avevano proposto soluzioni alternative, ma l'unica garanzia della Procura era il commissariamento o il rinnovamento totale del Consiglio d'amministrazione. Il prossimo CDA dovrebbe essere nominato ad aprile. E poi naturalmente c'è il campionato di calcio, si riparte, sono forse le giornate più intense perché si riparte con la prima di ritorno di mezzo a un turno di Coppa Italia che deve designare le squadre che arriveranno ai quarti. Quattro le abbiamo, quattro le conosceremo la prossima settimana. È una stagione intensa di calcio mercato, a febbraio torneranno anche le coppe europee, però come ripartiamo? Ripartiamo con un campionato che deve dare risposte dalla prima giornata di ritorno. Innanzitutto alla Juventus che tenta un'impresa mai riuscita un'italiana prima, il sesto scudetto consecutivo. L'impresa da parte di chi insegue Napoli e Roma soprattutto è di ricuscire lo strappo e poi ci sono i miganesi che devono restituirsi per così dire l'Europa che conta. Sembra passato un anno e invece è soltanto un girone di ritorno. Il 21 agosto scorso il debutto di Frank De Boer sulla panchina dell'Inter coincideva con la prima sconfitta sul campo del Chievo. Stasera si riparte da San Siro con mezzo campionato sulle spalle e tanti cambiamenti. Adesso c'è Pioli, sono arrivati João Mario e Gagliardini, il gruppo cinese di Suning ha il controllo e anche i profitti societari sono tornati a salire. Il giro di Boavede è anche uno spogliatoio nerazzurro più unito ed omogeneo che viene da quattro vittorie consecutive. Il Chievo di Maran si presenta a San Siro reduce da due sconfitte tra campionato e Coppa Italia, ma guai a sottovalutarlo. Ammonisce Pioli, intenzionato a sfruttare un calendario che a seguire propone Palermo e Pescara. L'anno scorso il giorno è andato l'Inter alla terza credo a 39 punti e la zona Champions alla fine del campionato è stata la Roma, la terza con 80 punti. E quindi se anche la terza quest'anno potrebbe essere a 39 punti, quindi i punti da fare in giro di ritorno sono veramente tanti. Stasera è il debutto di Roberto Gagliardini, l'Atalantino voluto proprio dal tecnico che ha deciso di buttarlo subito nella mischia dopo pochi allenamenti accanto a lui con Dogbia e João Mario. L'altro anticipo di oggi è Crotone Bologna, ma gli occhi sono tutti puntati sul big match di domani sera tra Fiorentina e Juventus. Allegri valuta un ritorno al 3-5-2 con Pjanic che rischia di finire in panchina dopo le critiche per la sua discontinuità. In attacco la sfida tra i due uomini mercato, da una parte di Bala pronto a rinnovare con la Juve rinunciando a Real Madrid, dall'altra Kalinic in attesa di sapere se finirà in Cina da milionario. E poi il duello a distanza tra Higuain e Bernardeschi, insomma spettacolo del gol assicurato. In questo girone di ritorno continua la caccia ai bianconeri, chi insegue partito bene come la Roma che a Udine cercherà di bissare il successo in trasferta di Genova ma senza Rudiger e De Rossi squalificati, giallorossi sul mercato sempre in attesa di una risposta dal West Ham per Feguli. È saltato invece l'ingaggio dell'attaccante dell'Ajax Gezzal per la Lazio. Inzaghi, nella delicata partita contro l'Atalanta all'Olimpico, dovrà accontentarsi del rientro di Felipe Anderson e Lulic, assente anche Keita impegnato in Coppa d'Africa insieme ai tanti colleghi che militano in Serie A. E se il Napoli dovrebbe andare in discesa col Pescara, bisognerà attendere lunedì per Torino-Milan, che si ritroveranno di fronte dopo il giovedì di Coppa Italia, che è promosso i rossoneri. Ricordando anche che oggi parte anche la Coppa d'Africa, toglie qualche protagonista al nostro campionato, ne parleremo in TG Cronaca perché è un torneo comunque interessante. TG Cronaca è apertura dedicata però, lo ricorderete, ritorneremo su quella sparatoria nel mercato di Forcella a Napoli del 4 gennaio di inizio anno. Ci sono sviluppi nell'inchiesta, rimase ferita anche una bimba di 10 anni. Con Raffaella Di Rosa andremo a capire in che direzione si va e chi sono i fermati. Ci fermiamo naturalmente e torniamo domani, se volete, come sempre alle 13.30. Un buon weekend a voi.